Naturalmente Erboristeria riscalda i propri locali con i colori ed i profumi del Natale. Venite a trovarci, per voi come ogni anno, una vasta scelta di articoli da regalo, tè e tisane accuratamente selezionate per rendere il vostro dono unico e sentito. Non esiste albero in ogni casa che non sia circondato dai nostri cestini. Ricchi di prodotti di altissima e biologica qualità, o dai nostri pacchetti, per cui da sempre ci contraddistinguiamo per il particolare con cui vengono confezionati. In occasione della festa più sentita, il nostro unico peccato è quello di pretendere di fare e farvi fare bella figura con chi riceve un pregalo che porta la nostra firma. Adoriamo suggerirvi l'idea perfetta ed avvolgerla nella carta migliore e decorarla col dettaglio più ricercato. Naturalmente Erboristeria ci mette il cuore. Naturalmente Erboristeria, anche a Natale, mossi da amore. Naturalmente Erboristeria ci mette i nostri spettatori. Al prossimo episodio Naturalmente Erboristeria ci mette il cuore. Naturalmente Erboristeria, anche a Natale, ci mette il cuore. Naturalmente Erboristeria ci mette il cuore. Grazie a tutti.